eccomi qua eccomi qua a commentare una bovino di partita una partita su cui ci sarebbero da dire tante cose tante i primis ci hanno devastato e muti e portare a casa nulla da dire nulla da dire hanno dimostrato di essere ancora forti io mi ero un po illuso dopo il classico viene un po illuso più che altro per la fragilità difensiva del barcellona ma se non arrivi mai a tirare in porta morata escluso la vedo dura la vedo dura si davanti sono ancora forti ma noi una prestazione proprio non all'altezza è vero attenuanti manca mezza squadra d'accordo non si possono regalare al barcellona mai in tutta la storia del barcellona non questo in quelli precedenti sempre non puoi regalare una squadra come il barcellona cristiano ronaldo alexandro delict e chiellini non li puoi regalare non li puoi regalare magari avremmo perso lo stesso che non è che questi giocano diversamente se c'è la cristiano se c'è la delict se c'è la qualcun altro oggi prendere e portare a casa c'è poco da dire poi 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 ci sono le prestazioni individuali scandalose scandalose allora caro andrea adesso per la prima volta devo metterti sotto accusa scusami ma artur che cazzo l'abbiamo preso a fare per dire perché ragazzi rabbio è inguardabile bernardeschi è impresentabile di bala ha fatto pietà oggi ha fatto pietà non ha fatto un'azione che è una una per dirvene per dirte ha giocato molto meglio chiesa chiesa che pure ha fatto schifo ma di bala oggi era un fantasma in campo come come spesso gli capita d'altronde in queste partite ricordiamo le partite con real ricordiamo le partite con l'ajax ricordiamo il lione che si è anche fatto male all'andata con lione e vabbè e poi c'è un discorso che abbiamo una rosa costruita male 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 soprattutto al centro campo abbiamo una rosa insufficiente insufficiente cioè oggi bentancur male male anche lui oggi siamo completamente mancati al centro campo cioè ci facevano girare come volevano loro cioè de jong pianic il mio tanto vituperato pianic non ce l'hanno fatta vedere spiace dirlo ma è così allora caro andrea non è che dobbiamo ridiscuterlo sto modulo con due a con due ali e due attaccanti non è che lo dobbiamo ridiscutere sto modulo non per niente a parte ora lasciamo stare le assenze lasciamo perdere le assenze ma bisogna anche rendersi conto che per sostenere un attacco di questi il grande manchester di ferguson ce l'aveva un attacco uno schema simile beckham e geek sulle fasce york e colina avanti era il grande manchester una di ferguson ma noi vogliamo potremmo anche riadattare quello schema ma parliamoci chiaro bentancur e rabiot non sono kin roichin e scolz non ci assomigliano neppure lontanamente cioè non come tecnico ma come corsa per fare quel gioco caro andrea hai bisogno di due centrocampisti di corsa guarda caso dei centrocampisti da oggi schierato chi è stato il migliore meccenni quei dieci minuti che ha giocato è stato meccenni nettamente il migliore dei centrocampisti bisogna bisogna dirlo abbiamo un centrocampo rachitico rachitico cioè bentancur siamo appesi a bentancur se bentancur non è giornata alleluia questo è un campanello d'allarme perché se la difesa la possiamo assolvere per l'assenza di chiellini e delict a proposito del mirale ma dove cazzo vai non solo per di palla fai fallo già ammonito e ti buttano fuori cioè io se mezza speranziella ce l'avevamo l'abbiamo incertata al cese de mirale dove cazzo vai de mirale ma io non lo so ci tenevamo bidone per bidone ci tenevamo rugani e de ciglio ci tenevamo non lo so bonucci e danilo hanno fatto i miracoli oggi che cazzo li vuoi dire bonucci persino scesi ha fatto un paratone nel primo tempo che cazzo li vuoi dire che cazzo li vuoi dire no raga per la prima volta un pizzico di pessimismo si apre io non so cosa ha fatto ferezvano cedina mochievo non lo so cosa hanno fatto non lo so magari a barcellona nell'ultima gara del girone si vedrà tutt'altra juve ma ne sono convinto perché dovremo finalmente recuperare qualche giocatore arriverà dicembre non penso che ci staccheranno più di tanto in campionato perché il milan io pronostica il milan tra le prime quattro sicuro ma non ce lo vedo la squadra che stacca le altre anche perché deve crescere c'è il napoli c'è io tenevo più il napoli da questo punto di vista la stessa inter è discontinua ecco la juve a centrocampo bentancur a centrocampo è come lukaku nell'inter in attacco se non gioca bene lui non gioca bene la juve ma perché perché abbiamo i centrocampisti contati rabbio vabbè cioè a sto punto cioè non lo so riabilitavamo che dira a questo punto che dira a mezzo piede cento volte meglio di rabbio che dira ci sono cose che io non capirò mai è vero che dobbiamo svecchiare la rosa è vero che ci aspettano alcuni stagioni difficili anche perché gli avversari sono rinforzate la partita di oggi la si ci hanno sul classato nettamente dal punto di vista del gioco ma la prendo anche con beneficio di inventario questa partita qua perché se abbiamo visto sprazzi di vero barcellona la vera juve non si è vista manco manco da lontano oggi la vera juve non si è vista un po per le assenze un po per la c'è sempre quel centimetro di troppo a fare una rigola morata vabbè pazienza pazienza e il var il var c'è per questo è inutile come ha detto marianella in telecronaca inutile appellarsi sia in linea non deve da no non esiste non esiste pensa un ragionamento del genere il cambiamento italiano ti stracciano la testa la testa dell'ordine dei giornalisti caro marianella non dire queste cose commentando la serie a è vero che tu commenti sempre la premier league beato te io sul var l'unica cosa che mi sento di dire pensate se ci fosse stato il var nel 97 col borussia nel 98 correal e nel 2015 a berlino sempre con il barcellona quel famoso fallo di daniel alves su poco su poco basso luna 1 sulla cui ripartenza il barstas poi segna un gol del 2 a 1 e vabbè perdiamo per la prima volta in casa con barcellona vittoria netta senza attenuanti nulla da dire ci hanno fatto la corsa come volevano potevano vincere 3 4 a 0 comodamente oggi perché la juve è stata brutta molto brutta cerchiamo di non farci distanziare troppo in campionato cerchiamo di fare si sei punti con gli ungheresi e di battere in casa la dinamo chiudere il discorso subito il discorso qualificazione e a gennaio si intervenga si intervenga si pigliano un paio di centrocampisti è un laterale sinistro perché non è che possiamo è possibilmente vediamo di toglierci un po di zavorra cao paolo dibala se sei questo se sei questo a questo punto sai cosa ti dico paolo dibala sai cosa ti dico che tu sempre in merito al barcellona tu hai vissuto un po troppo di rendita rendita su quella doppietta col barcellona ma io l'ho detto paolo dibala non è non sarà mai un leader paolo dibala rende al meglio con una spalla e la sua spalla ideale era mario manzukic la sua spalla ideale era mario manzukic quando manca mario nella juve uno come marione a questo punto devo pensare col senno di poi se fossi andato a manchester a quest'ora avremmo ronaldo lukaku come coppia d'attacco col senno di poi devo dire che forse sarebbe stato meglio perché caro dibala ai 26 anni anche se qua qui c'è da fare un video a parte sull'attacco della juventus che mi sa che due tre anni che siamo in completa confusione da questo punto di vista e oggi si è visto senza il castello senza la vera forza della juventus in questi anni che era la difesa siamo una squadra molto vulnerabile a questi livelli chiellini del ict lo stesso del ict nonostante i suoi errori di gioventù oggi del ict in confronto alla difesa che ha giocato oggi ci sembra un gigante non va bene non va bene non va bene non va bene urgono cambiamenti innanzitutto di modulo urge recuperare subito cristiano ronaldo e accelerare i tempi con del ict alexandro perché io io di prendere gol a capocchia mi sono un po stancato sinceramente che sì c'è sconfitta c'è un po di sconforto per la sconfitta di stasera ma se proprio devo dire la mia mi tira al culo più i pareggi con crotone e verona che la sconfitta di stasera ci sta hai perso con una squadra che secondo me con un paio di ritocchi non è più forte di te non è più forte di te con un paio di ritocchi giusti a centrocampo reparto assolutamente non considerato in questi in questi ultimi tempi e poi c'è quel bernardeschi già fai schifo entri e causi il calcio di rigore e vabbè dai così raga lasciate un like iscrivetevi al canale a domani è tempo di europa league ma io credo proprio che in tv guarderò l'intervista a binotto guarderò l'intervista binotto su cercheremo di capire cosa è successo a questa ferrari raga fra juve e ferrari non è un bel momento inutile legarlo lasciate un like iscrivetevi al canale vi auguro buonanotte e sempre forse a giù ciao